I benettoni non mi stanno simpatici e le loro prime comunicazioni, basti pensare alle digrazioni di Castellucci, sono state ridicole dopo la morte di almeno 40 persone perché ce ne saranno forse di più visti i dispersi, ma qualche considerazione a freddo e non demagogica forse conviene farla sul disastro di Genova. Intanto la prima riguarda proprio la famiglia Veneta. Chiunque compri un'azienda pubblica come sono ed erano le autostrade e abbia una concessione su quelle autostrade ha il diritto di fare molti soldi. Io sono un liberista, se tu hai fatto l'affare della vita fai pure tanti soldi, ma al fare tanti soldi corrisponde anche grande responsabilità quando sbagli, quando c'è un rischio di impresa che non hai calcolato, ne paghi altrettanti. Chiaro, tanti soldi, rischio di impresa, sono cazzi tuoi. Fatta questa premessa, e cioè quella che i benettoni devono pagare per quello che è successo perché gestivano la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrade italiane e hanno fatto molti profitti legittimi su quelle, mi viene da pensare che il Presidente del Consiglio Conte abbia detto una cosa sbagliatissima, quando ci ha detto che indipendentemente dalla giustizia bisognerà revocare la concessione. Perché ha detto una cosa sbagliata? Perché lo Stato di diritto in un paese normale deve esistere e quando lo Stato di diritto vi piace che non esista più, cioè togliere una concessione senza avere fatto un processo normale ai benetton, quando vi piace o quando vi piace togliere per esempio i diritti e pensionati perché vengono considerati d'oro sopra i 4.000, per tutte quelle volte che vi piace ci può essere qualche volta che non vi piace e lì vi accorgerete che lo Stato di diritto serve nel caso in cui vi colpisca direttamente. Non si può pensare sempre che la mano forte dello Stato e di Conto e di Di Maio e di Salvini vada bene soltanto quando prende i presunti nemici, in questo caso i benetton. Attenzione perché lo Stato di diritto a questo serve, la dico banale è banale. Ma c'è un'altra questione che è molto più semplice da capire e cioè se noi ce l'abbiamo con i benetton che hanno gestito male le autostrade, la sanzione non è quella di revocargli la concessione, perché poi la concessione lo Stato non sarà in grado di revocarla e saranno grandissime questioni giudiziari perché di fatto sono le norme europee che abbiamo rispettato nel dargli quella concessione, ma il punto è fargli da pagare, fargli ricostruire ovviamente il ponte, fargli ricostruire le case che sono sotto il ponte, bonificare la situazione, trovare quell'ispettorato che Toninelli ha all'interno del suo ministero e prima di lui gli altri ministri avevano, quell'ispettorato che dovrebbe vigilare su questa concessione e dovrebbe anche ordinare manutenzioni che lo stesso concessionario non ha previsto. Esiste questo espettorato che ha fatto fino ad oggi? Tutti dicevano che il ponte era ammalorato, ma possibile caro Toninelli che voi per primi e il vostro gruppo politico avete messo nel vostro blog che invece era una favoletta il fatto che fosse non ammalorato ma che cadesse quel ponte? È possibile che il suo ispettorato e quello dei ministri precedenti al suo non si fossero resi conto che c'era quel problema se tutti oggi lo vengono a sapere? Questo non toglie le responsabilità del rischio di impresa dei Benetton, ma toglie un po' di demagogia dal campo, fategliela pagare, non è mettendoli al muro e sparandogli sulla schiena che risolviamo la situazione, la risolviamo cercando di utilizzare i soldi dei privati e tanti profitti fatti fino ad oggi per rendere le nostre infrastrutture vecchie di 50 anni forse un po' più moderne per evitare che tante altre Genove ci siano. Voi pensate che la rete stradale gestita dai comuni, gestita dall'ANAS sia in situazioni molto migliori rispetto a quella dei privati? Non se la fanno pagare, viene pagata con le nostre imposte. Questa è la soluzione che voi preferite? O preferite addirittura che la concessione la prenda qualche grande concessionario straniero, ma io penso che più che la demagogia oggi serva molta pragmaticità. Facciamogliela pagare. Ciao!